Marcia a piedi disastrati, sporcizia in culia, alberi pericolanti, mancanza di parcheggi. Questo è il biglietto da visita che il lungomare di Riovivo a Termoli offre ai turisti che si recano in spiaggia. I titolari dei Lidi Balneari accusano l'amministrazione comunale di indifferenza nei loro confronti. Domenica di inizio luglio a Termoli, siamo in Riovivo Marinelle, in prossimità di uno dei Lidi che sono ospitati in questa zona. Potete vedere tutte le condizioni in cui si trova questa, che è una delle zone principali, delle aree principali della città di Termoli e che dovrebbe accogliere i turisti che qui si recano soprattutto nel periodo estivo. Guardate, questa è la condizione in cui si trova quest'area di Termoli. Vedete il degrado, vedete la sporcizia, vedete soprattutto quest'albero che praticamente è un albero che sta a rischio caduta, quindi anche per le macchine che si trovano in questa zona. Abbiamo sentito anche degli operatori che fanno attività imprenditoriale al Riovivo Marinelle e hanno sottolineato che quest'area è considerata di fatto un'area di serie B, in quanto l'amministrazione comunale fino ad oggi non si è impegnata per tenere viva questa zona, quindi a livello anche di pulizia, a livello di cura anche del verde, della pulizia delle strade. Ed è stato sottolineato che la decisione di aver installato qui le macchinette per il pagamento delle strisce blu, quindi per i parcheggi, ha di fatto ulteriormente danneggiato l'afflusso turistico in questa zona. Partiamo dalla questione parcheggi. La decisione di ampliare la fascia oraria dei parcheggi a pagamento fino a mezzanotte, quali ripercussioni ha avuto per voi, imprese del settore della balneazione? Ripercussioni non particolarmente gravi, però fa notare che il volere dell'amministrazione è quello di non garantire ai turisti la massima ospitalità. Ci sentiamo un popolo di serie B e invece Termoli merita di essere trattata alla stessa maniera a nord, sud e soprattutto anche nei quartieri periferici. Ritengo che questa amministrazione abbia commesso tantissimi errori e spero che le prossime amministrazioni future possano garantire ai cittadini termolesi, agli imprenditori e soprattutto ai turisti, maggiore attenzione soprattutto alle esigenze primarie che possono essere l'ambiente, possono essere le infrastrutture, tutto ciò che riguarda il benessere della persona e della città in generale. Stiamo per entrare nel pieno della stagione estiva, innanzitutto un bilancio. Il bilancio fino ad oggi è positivo, la temperatura estiva, le giornate bellissime, il mare perfettamente integro e da un punto di vista ambientale abbastanza lodevole, ci stanno garantendo un buon inizio di stagione e ci auguriamo che questo continui fino a settembre.